ebbene siamo qua stasera ore 8 di sera siamo qua a Parichià vicino al posto la zona dove passa la gente, il giorno 13 di luglio si vede che molto poco freddo in giro attraverso le 8 di sera, questo è il nostro luglio a fare, quest'anno giugno è stato meglio e quanto sembra luglio è un po' scarso comunque stasera andiamo a un bel compleanno di Francesca Casanova che fa il suo compleanno andremo a visitare il famoso ristorante da Fred de Charnot e sarà una bella serata in compagnia di noi e tutti voi ci vediamo un po' più tardi a presto 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 Siamo qui in questo momento preciso dove verrà servita la torta a tavola Siamo qui in questo momento Siamo qui in questo momento Siamo qui in questo momento Una meta importante a Paros Il Pirate Bar Ragazzi se volete passare una serata fantastica Senza troppo casino Questo è il posto giù Siamo qui in questo momento Insomma gente ce n'è un po' Ma non tanta come dovrebbe essere Comunque Una serata differente con la famiglia Sempre augurando un buon coprano a Francesca Casanova Abbiamo incontrato anche bella gente in giro Ci sono felici Si lavora Anche sinceramente ancora la stagione forza forza Non è ancora cominciata Comunque che si possa E' importante stare bene E divertirsi Buona serata a tutti Alla prossima Radio Paros for you Vi saluta Mario Chillemi Ciao Ciao Come? Ciao Happy Birthday Oh my God Oh my God Oh my God Hey